ok ciao a tutti bentornati nell'angolo del gaming e continuiamo con oyo quindi se il gamepad riesce a muovere il mouse allora mi avvicino al mouse allo schermo eccolo qua next level l'episodio 6 dal titolo che botto un botto un botto neanche letto capire il significato che succede eh ops adesso inizio a ricordare come si fa questo qua fa girare un po' la testa devo andare lassù oppure no no perché non vedo niente per salire no però sono una lampada da una lampada sul viso ho capito che eri spento aia corre troppo questo già la seconda anche nel precedente episodio me ne ero accorto è una caratteristica in effetti di molti platform avere problemi a frenare parti lentamente basta che non ti rovescio me ne sono accorto appena in tempo aia sapevo che sarebbe successo qualcosa niente non sono riuscito a prendere quel rettangolo nemmi questa volta da una lampada sul buio ho capito che era spento non c'entra proprio niente con la canzone originale e lo lascio stare il bottone rosso attiva qualcosa adesso andiamo a scoprire cosa abbiamo appena attivato penso di aver capito cosa devo fare infatti voilà vedi meccanismi di questo titolo adesso tempo ricevete poca pubblicità rispetto a quella che avrebbe dovuto ricevere eh cos'è si ah si ho capito ma perché ci sono queste piante di qui un'ultima cercando di capire il lo scopo forse c'è qualcosa che devo raccogliere che sono finora tre oggetti quelli che non sono riusciti a raccogliere troppo secondo me però no non riesco a capire se devo andare su oppure no allora facciamo così lasciamo stare e facciamo direttamente così vai no qua qua è la pianta ah va bene non serve essere preciso ok si è attivata e ora devo per forza andare su non riesco a capire è caduto volare credo che devono andare su ad aprire qualcosa ha fatto tutto da solo vabbè no ma un attimo no non è che non ha fatto tutto da solo ho perso l'opportunità ok niente ho perso anche quel rettangolo questo episodio sto perdendo troppo ok grazie sapevo che qui sarebbe successo qualcosa devo corri 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 ok ok bisogna essere molto preciso corri corri perché non si può accelerare adesso finché è premuto questo si muove ok 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 ho dimenticato di saltare non che questa volta ho dimenticato il saltare ok ci sono riuscito che buio finito il livello botun purtroppo è andato male 100 su 100 non ho preso due rettangolini ci vediamo al prossimo episodio sperando che possa andare meglio ma come notate è sempre più complesso sta diventando non mi ricordo quanti siano i livelli ma vedrete che andremo avanti e se tutto va bene completeremo anche questo videogioco ciao al prossimo episodio